Come dimostrasi questa mattina ci sono altre persone, altre cose, altre cose in campo. Spero che la gente cominci a capire che non è tutto rose splendenti insomma. Non si placa, anzi si allarga la protesta degli espropriati della Pedemontana. Dopo la denuncia di Matilde Cortese di Pianezze che ha bloccato con l'auto le ruspe arrivate davanti alla sua proprietà e sarà ricevuta mercoledì a maestre dal commissario straordinario della Pedemontana Silvano Vernizi. Ecco il blitz del Movimento 5 Stelle per denunciare episodi analoghi. Qui siamo a malo nella proprietà di Attilio Gomitolo. Non ho dato assolutamente niente, però questi qua sono entrati, non mi hanno convocato, non hanno fatto niente. Ci è stato tolto un anno fa dall'assist e hanno già fatto quel buco qua che vedete sul mio terreno, è già proprio compromesso. Sono entrati che avevamo già il mais a questa altezza quindi ci hanno anche rovinato il raccolto dell'anno scorso. Lei cosa chiede? Io chiedo che ci sia una trattativa, che dobbiamo sapere quando prendiamo i soldi, quante ne prendiamo. Poco più in là cantieri ancora non ne sono stati aperti ma il timore di ciò che potrebbe succedere pende sulla testa di altri residenti. Perché dove entra il tunnel della galleria, che è là, non sanno ancora come fanno questa galleria e dove, di preciso. Io sono stato a Mestrali, sono stato a Cazzola a chiedere e ha detto non sappiamo, a Torino stanno ancora a fare il suo disegno. Il Movimento 5 Stelle promette battaglia in regione. Queste persone aspetterebbe minimo l'80% del valore dei terreni che gli sono stati rubati di fatto e invece non hanno avuto nulla, non hanno avuto nulla se non la distruzione della propria azienda, cioè della propria fonte di guadagno. Grazie a tutti.